Ciao a tutti, come tenere testa un narcisista? Prima di affrontare questo tema iscritti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Allora, dobbiamo tenere presente che è possibile, diciamo, tenere testa un narcisista, cercare di superarlo, cercare di essere più astuti, ma poniti prima una domanda, ti conviene tutto questo? Perché vuoi tenere testa un narcisista? Non è molto meglio sganciarsi, prima però di andare avanti ti ricordo che io farò un seminario venerdì 10 gennaio 2020 a Torino alle ore 20.45, dove parlerò proprio di come sedurre, conquistare le persone difficili ma che ti interessano e come sganciarsi dei narcisisti. Il riferimento è il 333 15 11 703. Ti ricordo inoltre che chi non potesse partecipare ai corsi può abbonarsi al canale Massimo Terramasco, basta andare sulla home page del canale Massimo Terramasco, abbonarti e quindi ottenere, diciamo, cliccare sul canale, sul tastino abbonati e quindi ottenere tutti i benefici del caso, insomma. Bene, diciamo che uno può anche sentire voglia di tenere a testa un narcisista tenendo presente che però, come dire, la guerra sarà una guerra forte perché il narcisista, diciamo, è un osso duro da questo punto di vista. Come si comporta il narcisista nei tuoi confronti? Beh, intanto il narcisista prova pure piacere nelle competizioni, quindi solo un narcisista prova piacere nel competere, prova piacere nel tartassarti, quindi prova piacere nel fare un gioco sporco, quindi i narcisisti sono eccitati, interessati all'idea di una sfida. Per, diciamo, tenere a testa un narcisista non devi assolutamente credere, ad esempio, al gaslighting, a tutte le strumentalizzazioni che deve farti. L'importante è che ti sconnetti mentalmente. La prima cosa che devi fare per neutralizzare, diciamo così, un narcisista è di sconnetterti, quindi renderti conto appunto che sei stato di un narcisista e renderti conto che non devi assolutamente cercare di prendere, come dire, di dare retta a questa persona. Tieni presente che cercherà di scacciare la tua autostima, cercherà di, diciamo, competere sotto tutti i punti di vista, tieni presente che segue il detto, il fine, i giustifichi e i mezzi, per cui tu devi assolutamente evitare di cadere in questa trappola, cadere nella trappola, di dargli credito fondamentalmente. Questa è l'unica cosa che bisogna imparare a fare, cioè devi preservare le tue energie, non dedicargli troppe energie, dargli indifferenza, investi queste tue energie che abbiamo a disposizione per arricchire la tua vita, per trovare persone che possano essere persone, diciamo, valide, persone con le quali puoi interagire in modo positivo e inizia a fottertene, insomma, di questo narcisista. Perché la cosa fondamentale è sganciarsi. Una volta che ti sganci non avrai difficoltà a poterli tenere testa, ma se non ti sganci sarà tutto veramente difficile. Ti ricordo che tratterò il tema su come sganciarsi dei narcisisti venerdì 10 gennaio 2020 a Torino e inoltre, in questo stesso seminario, tratterò anche su come sedurre le persone difficili. Il riferimento è il 333 15 11 703. Ti ricordo inoltre che chi non può partecipare ai corsi per distanza può comunque abbonarsi al canale Massimo Terramasco ed accedere comunque a risorse molto importanti. Per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco iscriviti al canale, iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione a questo canale qua. Ciao a tutti!